Per il secondo anno consecutivo Pescara porta a casa la bandiera blu. Grande soddisfazione per l'amministrazione comunale che potrà giovarsi per l'estate ormai imminente del prestigioso riconoscimento. Sono 14 le città abruzzesi che hanno portato a casa la bandiera blu. Oltre a Pescara ci sono Alba Adriatica che è la novità del 2022 e poi le altre conferme come Villa Lago, Scanno, Fossa Cesia, San Salvo, Vasto, Giulianova, Pineto, Rosetto degli Abruzzi, Silvi, Tortoreto, Francavilla al Mare e Martinsicuro. Significativo il bis di Pescara dopo la prima storica bandiera blu del 2021 come sottolinea il primo cittadino Carlo Masci. È sempre un'emozione grandissima anche se quest'anno è una conferma. L'anno scorso era la prima volta che avevamo tentato una sfida impossibile e ci eravamo riusciti. Adesso abbiamo la conferma perché abbiamo fatto molti passi avanti. Pescara è una città che si presenta sempre all'avanguardia con le operazioni legate alla sostenibilità ambientale e la bandiera blu è un marchio di qualità che noi otteniamo per il secondo anno consecutivo. Abbiamo un mare pulito, delle spiagge belle, un'organizzazione sulla spiaggia che è all'avanguardia ma abbiamo anche piste ciclabili, corsie preferenziali, zone pedonali. Questa è una città che ha puntato molto sulla sostenibilità ambientale e proseguiamo lungo questo percorso ottenendo dei riconoscimenti significativi. Questo della bandiera blu è il marchio DOC che tutte le città che vogliono ambire ad un livello più alto di qualità della vita devono ottenere e noi anche quest'anno l'abbiamo ottenuto. Non era facile ottenerla a bandiera blu l'anno scorso. Solo chi ama e conosce questa città poteva lanciare quella sfida, una sfida che ha avuto un risultato eccezionale. La conferma ci dice che siamo sulla strada giusta. D'altronde noi già avevamo avuto qualche sentore perché nei mesi scorsi l'organizzazione è venuta a Pescara per visionare la città e ci aveva dato segnali assolutamente incoraggianti e la conferma è arrivata oggi. Questi segnali erano positivi, erano lusinghieri e il lavoro che stiamo facendo è quello giusto perché coinvolgiamo le scuole, perché coinvolgiamo i cittadini, perché questa è una città che sulla sostenibilità ambientale ha puntato tutto perché le città oggi si confrontano sulla qualità della vita e Pescara sicuramente ha una qualità della vita altissima per i propri cittadini.